Buonasera a tutti, grazie di essere qui, ringrazio i colleghi, ringrazio la carta stampata, ringrazio Fanu TV per essere qui. Volevo salutare i colleghi di Fossombrone, Pergola, San Costanzo, Montefilcino, Montecopiolo e saluto anche Petriano che non può essere qui però è con noi. Poi anche il sindaco di Fossombrone ci dirà anche altri probabilmente che si uniranno. Dicevamo siamo qui perché fondamentalmente in occasione del prossimo incontro che si sarà lunedì prossimo ad Urbino, conferenza dell'Era Vasta, che sarà un momento estremamente importante dove ci vedrà e saremo chiamati a prendere, secondo qualcuno, una decisione di scegliere su un ospedale unico in un sito piuttosto che un altro. Noi possiamo dire che per quanto ci riguarda siamo fortemente convinti di riproporre e portare avanti quanto già abbiamo comunicato nella conferenza stampa del 26 luglio di San Lorenzo in campo. dove in un certo qual modo ci siamo opposti, abbiamo espresso parere assolutamente contrario a questa possibilità della realizzazione di un ospedale unico perché di fatto ci siamo resi conto che probabilmente prima di pensare all'ospedale unico magari sarebbe più opportuno valutare poi quanto è stato lasciato indietro sul territorio, quanto in questo momento la sanità è carente in modo particolare nell'Interland e quindi diciamo che possiamo in questo momento aggiungere una terza possibilità a quanto c'è già in campo, vuol dire all'ospedale a Muraglia piuttosto che a Fosso Signore, piuttosto che a Chioruccia, diciamo anche una possibilità che è quella che noi stiamo proponendo, quella di un sistema praticamente policentrico che abbia legato chiaramente poi a uno studio di fattibilità e magari legato anche a veramente reali bisogni dei cittadini quindi sia della costa che dell'entroterra per far sì che ci sia una rete che comunque garantisca servizi di un livello adeguato a tutta la cittadinanza della provincia di Pietro Urbino. Alla luce di questo voglio dire, perché ormai è chiaro, perché poi di fatto io devo essere sincero, c'è stato un periodo dove c'erano dei dubbi su che cosa? Sul fatto se l'ospedale unico fosse solo per Fano e Pesaro piuttosto che tutta la provincia. Oggi abbiamo la certezza che il nuovo ospedale unico sarà per tutta la provincia di Pesaro. Conosciamo bene la nostra provincia di Pesaro, l'orografia è molto diversa rispetto probabilmente a tutto il resto delle province della Regione Marche con una viabilità che sicuramente ha dei tempi di decorrenza molto lunghi. Quindi pensare sinceramente ad un ospedale unico che possa garantire e tutelare un servizio adeguato a tutta la provincia crediamo che sia abbastanza complicato. E per questo siamo qui a ribadire questo concetto. Io mi fermo qua perché vorrei passare la parola ai miei colleghi che sono più bravi e più capaci di me, più esperti. Passo la parola a Francesco Baldelli, sindaco di Pergola, che poi a sua volta farà il giro. Grazie. Grazie Maurizio, ti ringrazio per la tua ospitalità e anche per la sintesi con cui hai presentato questa iniziativa. Ormai è chiaro che c'è un gruppo di sindaci della nostra provincia che rappresentano tutte le valli della provincia di Pesaro e Urbino che hanno un progetto concreto alternativo, sindaci che non sanno soltanto dire no ma che propongono concretamente un modello di assistenza ospedaliera per le nostre popolazioni che sia valido per tutto il territorio in maniera omogenea. Non solo in alcune zone del territorio ma in tutto il territorio della provincia di Pesaro e Urbino partendo dai territori di montagna, passando nei territori collinari sino ad arrivare alla costa e quando parlo di costa parlo di Pesaro, Fano, Marotta e quindi anche del comune di Mondolfo. Questi sindaci stanno lavorando da tempo su una piattaforma ben precisa, progettuale che quindi diventa la terza opzione in gioco nella conferenza dei sindaci e nella discussione anche in Regione che parte da un dato concreto, pagina 225 del piano sanitario regionale 2012-2014 tra l'altro scaduto da ben due anni, in cui si prevede quale risultato complessivo delle azioni messe in atto dal piano sanitario regionale testè citato, il consolidamento a nord della regione si parla della provincia di Pesaro, dell'azienda ospedalieri e ospedali riuniti Marche Nord ad integrazione della realtà di Pesaro e Fano. Sin qui nessun problema da parte dei sindaci. Con la realizzazione, qui nascono i problemi, di una struttura unica per la copertura del bisogno di cura e assistenza a livello minimo di area vasta. Queste ultime due righe dimostrano chiaramente in una legge della regione qual è l'intenzione che ormai è evidente, basta entrare nei nostri ospedali e verificare ciò che è rimasto. Sostanzialmente a Fossombrone, Caglia e Sassocorvaro non è rimasto nulla perché quegli ospedali sono già stati chiusi con provvedimenti regionali. Per quanto riguarda Urbino, validi professionisti hanno dovuto migrare in altre strutture, visto quanto previsto dal piano sanitario della regione Marche. L'ospedale di Pergola viene progressivamente depotenziato e svuotato delle sue funzioni. Tra l'altro un gioiello della sanità di questa provincia, voglio sottolineare, me lo consentano i nostri colleghi sindaci, l'unica struttura interamente antisismica che noi abbiamo sul territorio. Questo per chiarire che le strutture per far rete e per garantire un'assistenza ospedaliera su tutto il territorio provinciale, come diceva prima Maurizio Cionna, in maniera omogenea devono non essere riconvertite come quelle di Fossombrone, Caglia e Sassocorvaro, non essere depotenziate come quelle di Urbino e Pergola, ma al contrario essere potenziate e fare rete per così fare da filtro verso le strutture che noi diciamo debbono essere mantenute, ossia le strutture di Fano e di Pesaro. Diverso è il discorso qualora si decidesse di rinnovare e potenziare, ampliare l'ospedale di Pesaro e allo stesso modo l'ospedale di Fano. Nessuno di noi sarebbe contrario. Ma diversa è la previsione della pagina 225 del piano sanitario regionale, dove con tutta chiarezza si parla di un'unica struttura per la copertura del bisogno di cura e assistenza al livello minimo di area vasta. Le parole di questa legge regionale sono chiare, il livello minimo di assistenza in area vasta non significano altre specialità che al contrario sono concentrate nella struttura di Ancona, ma significa gestire quegli interventi e quei servizi ospedalieri per acuti che in precedenza erano gestiti anche negli ospedali di Pergola, di Fossombrone, di Caglia, di Sassocorvaro e di Urbino. Da questa valutazione nasce il primo punto della base progettuale che viene presentata alla Regione e alla conferenza dei sindaci di area vasta, no all'ospedale unico previsto dal piano sanitario regionale, tra l'altro ormai superato, in quanto piano sanitario regionale approvato nel dicembre 2013 e 2011 è valido per gli anni 2012-2014. in secondo luogo l'apertura di una discussione da parte della Regione Marche a un modello sanitario che vista la popolazione del nostro territorio provinciale pare ad oltre 360.000 abitanti e vista l'orografia del territorio della provincia di Pesaro Urbino con un modello tra l'altro di avviabilità con lunghi tempi di percorrenza preveda una rete di assistenza ospedaliera omogeneo su tutto il territorio provinciale. Uno dei modelli praticabili è il cosiddetto policentrico, tra l'altro modello già attivato per scelte politiche nella vicina Romagna, modello già attuato nella vicina Umbria, ma questo ci sorprende, modello già esistente nella nostra regione ed esattamente nella limitrofa provincia di Ancona. Ospedale di Senigallia, provincia di Ancona, ospedale di Ancona che tutti conosciamo, provincia di Ancona, ospedale di Osimo, provincia di Ancona, ospedale di Iesi, provincia di Ancona, ospedale di Fabriano, provincia di Ancona. Non vorremmo che vi siano ancora scelte e continuare e perpetrare scelte della regione Marche che prevedano come la delibera della giunta regionale 735, 4,6 posti letto ogni mille abitanti per i concittadini, nostri amici delle provincia di Ancona e soltanto 2,7 posti letto per mille abitanti, stessa delibera 735 della giunta regionale per la provincia di Pesaro Urbino, ossia gli abitanti di Ancona godono di due posti letto in più ogni mille abitanti. E allora se questo vale per la provincia di Ancona non vediamo la motivazione perché questo non possa valere anche per la provincia di Pesaro. Nessuno ci venga a dire che il modello sanitario policentrico di strutture disseminate sul territorio è un modello superato perché se è un modello superato nella provincia di Pesaro Urbino allora è un modello superato anche nella provincia di Ancona. Nessuno ci venga a dire che il modello policentrico di più strutture presenti sul territorio è un modello superato e non garantisce la sicurezza dell'assistenza ospedaliera dei cittadini perché se è un modello superato che non garantisce la sicurezza dell'assistenza dei cittadini nella provincia di Pesaro Urbino allora non lo garantisce nemmeno nella provincia di Ancona. Ultimo punto che poniamo alla discussione della conferenza dei sindaci e dei consiglieri regionali che ci vorranno ascoltare è la realizzazione immediata di un nuovo piano sanitario regionale perché un altro piano sanitario regionale è possibile e quindi l'immediata istituzione di un tavolo di lavoro e di concertazione tra i sindaci della nostra provincia di Pesaro Urbino e la regione Marche. Questa piattaforma di lavoro condivisa dai sindaci che siedono su questo tavolo e da altri sindaci uno dei quali è stato già citato dal collega Cionna di Piagge, altre notizie ci le darà il collega di Fossombrone Gabriele Bonci, verrà presentato a ogni partito politico che siede in consiglio regionale e verrà presentato ad ogni componente della commissione sanità della regione Marche perché come vedete questi sindaci che siedono a questo tavolo rappresentano le comunità indipendentemente dalle loro liste civiche di appartenenza o indipendentemente dall'appartenenza politica dei sindaci o delle maggioranze che sorreggono questi sindaci. Questo è ciò che volevamo comunicare ovviamente alla stampa che è intervenuta, alle televisioni che sono intervenute e soprattutto sicuri di interpretare un sentimento diffuso delle nostre popolazioni. Grazie. Buonasera a tutti, grazie al sindaco Maurizio Cionna di Piagge per l'ospitalità e al sindaco Valdelli Francesco di Pergola per l'introduzione e la solita chiara esposizione. Io come sindaco di Fossombrone penso di rappresentare comunque il pensiero anche degli altri colleghi e porto anche, rappresento il pensiero del comune di Monte Labate che non è potuto intervenire fisicamente però diciamo si unisce al nostro appello, al nostro coro. E diciamo non l'ospedale unico, già in gran parte il sindaco di Pergola ha spiegato il motivo, io volevo entrare un po' più nel dettaglio tecnico diciamo, nel senso che la nostra contrarietà all'ospedale unico nasce anche da una mancanza di studi, di dati. Dalla regione nessuno ci ha mai dimostrato il vantaggio che porterà l'ospedale unico rispetto al potenziamento degli ospedali locali, non c'è uno studio relativo ai costi e benefici. Abbiamo strutture locali, io parlo della struttura di Fossombrone che conosco bene, seminuova e quindi il concetto di chiudere tutti gli ospedali in nome di un ospedale unico che poi diventerà l'unico ospedale invece della provincia non può secondo me essere accettato dei sindaci che sono tutori della salute dei propri concittadini per cui il nostro anno è chiaro, chiediamo di rivedere il piano sanitario regionale per altro scaduto e mai condiviso con i sindaci e siamo pronti a valutarli insieme per cui non aspettiamo altro che la regione si confronti con noi sull'esigenza del territorio, territorio che non è uniforme, non è omogeneo, la costa ha certe caratteristiche, l'entroterra ne ha ben altre per cui siamo pronti a sederci a un tavolo purché ci vengano offerti alternativi all'attuale piano sanitario che ripeto è un piano che decreta sostanzialmente la morte di tutti gli ospedali locali in virtù di questo nuovo ospedale che però non dimentichiamo ancora deve nascere. È un ospedale che se tutto va bene forse sarà pronto tra dieci anni, qualcuno dice cinque, qualcuno dieci, non sappiamo neanche i tempi di realizzazione ma ci aspettano comunque diversi anni di vuoto praticamente per cui ci troveremo ad avere già degli ospedali chiusi in virtù di un ospedale che ancora è soltanto sulla carta. I giochi politici a cui abbiamo assistito sono abbastanza depolerevoli e ben viso, cioè qui si sta a discutere se farlo Fano, Chiaruccia, Fossossiore eccetera, accordi fra vari sindaci in cambio semi appoggiati non è una cosa che ci interessa, a noi interessa la salute dei nostri concittadini, interessa una struttura, un sistema sanitario che garantisca la giusta assistenza appunto ai nostri cittadini uniforme per tutta la provincia per cui ribadiamo il nostro no forte a questo piano sanitario. Buonasera a tutti e grazie ancora all'ospitalità, al comune di Piaggia, al sindaco Maurizio Cionna e a tutti gli altri colleghi che sono qui insieme a me e con tutti insieme e ai colleghi che mi hanno preceduto. Chiaramente oltre la condivisione totale di quello che è stato detto qualche considerazione in più mi sento di farla. Intanto sull'ordine dei lavori che verrà svolto lunedì alla conferenza, l'ennesima conferenza dei sindaci di area vasta, sinceramente non capisco il perché sia stato posto come primo punto la discussione sulla localizzazione di questo ospedale unico e poi soltanto in secondo avviso la discussione generale sulla riorganizzazione dei sistemi sanitari a livello di area vasta. È una questione che è stata già dibattuta in precedenza ma occorre ribadirlo anche in questa sede. All'inizio della riflessione va fatto come noi proponiamo perché come è stato riferito non siamo per il no a qualche cosa ma siamo per un'alternativa possibile alla sanità a livello di area vasta e a livello provinciale che ci è stata proposta dalla regione Marche. La proposta quindi è stata già detta a grosse linee qual è ma io attendo ancora che qualcuno ci dica il perché di questa enorme fretta che vi è nella localizzazione del sito dell'ospedale unico a livello provinciale e soprattutto che qualcuno ci dica perché un sistema di tipo baricentrico come quello che è stato proposto dalla regione sia migliore di un sistema policentrico spinto. Un'analisi costi benefici che riguardi non soltanto dei meri numeri economici ma anche le ricadute sociali, lavorative e tutto l'indotto che è collegato a questi temi sui vari territori provinciali, una provincia molto estesa con condizioni orografiche ben diverse dalla costa all'entroterra che ci saranno quindi queste ricadute vorrei sapere se tutto questo è stato calcolato e ci venga dato un documento unitario chiaro e inequivocabile sul perché la regione voglia portare avanti questa scelta. E ribadisco ancora una volta un altro punto di riflessione deve essere questo, il sistema dell'emergenza urgenza, come ogni cittadino della nostra provincia a partire da quello che abita nella frazione più sperduta del comune più lontano dalla costa possa avere lo stesso diritto alla salute, alla cura e alla salvezza della propria vita rispetto a uno che abita sulla costa Pesero, Fano o Marotta. Questo non ci è stato ancora detto, ci è stato detto in maniera vaga di un potenziamento del sistema dell'eliambulanza con abilitazione a volo notturno ma assolutamente sono condizioni che non sono sufficienti per garantire una equità del trattamento sanitario e di salute per tutti i cittadini. Quindi ben prima della discussione della localizzazione del sito di questo ospedale unico che come ha detto bene anche il collega Bonci e il collega Baldelli avverrà fra X anni, magari 10 la realizzazione, 10 anni di questo ospedale ma nel frattempo al primo gennaio 2017 ci ritroveremo in una situazione drammatica per tutto l'entroterra e soprattutto per il sistema dell'emergenza urgenza. Quindi non capiamo bene qual è il discorso sanitario regionale, qual è la strategia e quali sono soprattutto le conseguenze per i cittadini e come sindaci la cosa che dobbiamo salvaguardare è la salute dei nostri cittadini. Quindi ci opponiamo fermamente a questa proposta che viene dalla regione per proporre però al contempo qualcosa di alternativo e concreto come in altre regioni all'onimitrofe è stato fatto in maniera positiva. Grazie a tutti. Grazie a tutti.